Condivido il professor Burioni, sono per una volta d'accordo con il professor Burioni nel senso che è meglio un controllo in più che uno in meno quindi chiedete al professor Burioni se si sente un allarmista sovranista chiedete al professor Burioni se si sente un allarmista sovranista condivido l'analisi del professor Burioni che condivide la richiesta dei governatori Di cosa parlerà oggi con Orban? Di questo tempo, di questo clima primaverile, di questo Milan, del senso della vita Buongiorno Del senso della vita Mi parlo con lui adesso Mi parlo con lui e poi magari mi parliamo con voi domani Va bene? Dicherà comunque di uscire dal Partito Popolare Europeo? No, non fa quello che vuole nella vita, dai Chi sono io per chiedere uscite dai partiti? Stop, grazie